Da oggi l'astronauta Luca Parmitano passa al comando della Stazione Spaziale Internazionale ed è il primo italiano a capo della missione. Marilu Lucrezio. Una cerimonia nel pomeriggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Luca Parmitano riceverà il testimone dal russo Agnèsyev Chinin. Partirà così la missione Expedition 61. Parmitano sarà il primo astronauta italiano al comando del laboratorio spaziale. Sarà impegnato in almeno 250 esperimenti scientifici ma si occuperà anche della riparazione di un rilevatore di particelle agganciato alla stazione. Svolgerà probabilmente attività extraveicolare, la cosiddetta passeggiata spaziale. Ma intanto nelle settimane passate abbiamo visto Parmitano impegnato su vari fronti. Lui che osserva la Terra dalla cupola a 400 km di distanza ha lanciato un appello a salvare il nostro pianeta prezioso e fragile. Un invito a ridurre le emissioni di anidride carbonica altrimenti sarà troppo tardi. Poi un discorso ai bambini. Ha mostrato il suo alter ego. Un pupazzetto con le sembianze di Astro Luca. I sogni possono diventare realtà, ha detto. Inseguite le vostre passioni.